Si è svolta nello scorso fine settimana nelle acque dell'isola d'Elba la terza edizione della Toremar Gold Cup, la manifestazione velica che nei giorni 20, 21 e 22 settembre ha ospitato a Portoferraio le prestigiose imbarcazioni della classe Esmeralda 888. L'evento, che fino a due anni fa si chiamava Elba Gold Cup, è arrivato sull'isola grazie all'interessamento del team mascalzone latino, con il giovane skipper e Achille Onorato a difendere i colori del team, oltre che a rappresentare Toremar che è stato main sponsor della manifestazione. I monotipi Esmeralda 888, imbarcazioni molto tecniche con 4-5 uomini di equipaggio, avevano a bordo molti velisti di livello internazionale, dando vita così ad un evento di alto livello che si è svolto in un campo di gara ormai collaudatissimo come quello della Rada di Portoferraio, con l'assistenza della Lega Navale e del Comitato dei Circoli Vellici Elbani. Per il terzo anno di fila la regata dell'Ismeralda portata all'Elba, grazie anche al piccolo contributo di Toremar, ma soprattutto grazie agli amici dello Yacht Club di Monaco, che poi insomma corrono per Monaco ma sono velisti un po' da tutta Europa e da tutto il mondo, per il terzo anno di fila c'è stata una manifestazione bellissima e soprattutto il successo è stato per l'isola d'Elba, in quanto rimane sempre nei cuori ed è la tappa principale di un importantissimo circuito internazionale e che quindi anche l'anno prossimo sicuramente vorranno tornare a correre nelle nostre meravigliose acque. Il circuito dell'Ismeralda 888 si concluderà nel prossimo mese di ottobre a Monte Carlo, ma quella elbana, la sesta e penultima in calendario, è stata la tappa più apprezzata dai velisti che hanno partecipato alle regate. Siamo qua in Portoferraio per la terza volta, per una regata che piaceva a tutti gli armatori, principalmente che vengono di Monaco, noi abbiamo dunque un campionato che ha qualche regata a Monaco, San Tropez, Porto Cervo in Sardegna e qua, è vero che siamo molto contenti di stare qua, un bel posto, una bella regata, una città magnifica con tutta la storia che va bene e siamo contenti di venire qua.